Cari amici, il 13 marzo Squinzi, il nostro Presidente, è stato ricevuto dal Presidente Napolitano. Ha sottolineato lo stato di emergenza dell'economia reale, calo dei consumi, aumento delle sofferenze e credito più selettivo. Confindustria si vuole caratterizzare per il cosa e per il come fare, aprendo un dibattito sui contenuti nel Paese attraverso il Progetto per l'Italia che abbiamo presentato a gennaio 2013. Un piano che pone la questione quantitativa, 316 miliardi di Euro. La questione nazionale, quale questione industriale? E la questione temporale, ossia fare presto. Partiamo dagli effetti che vogliamo realizzare sull'economia reale. Una crescita del PIL superiore al 3%, un'occupazione di 1,8 milioni di addetti in più, un peso dell'industria superiore al 20% del PIL e un rapporto debito PIL che scende al 103,7% rispetto al 129,7%. Si parte dall'economia reale e si arriva ai saldi di bilancio, per ripristinare fiducia, rimettere in moto investimenti e tornare a crescere. Dal 2007 abbiamo perso 7 punti di PIL, in valore assoluto 100 miliardi di Euro. Il ruolo di questa Confindustria in una società aperta e moderna è essere ponte tra gli interessi generali e gli interessi delle imprese. Questa Confindustria chiede alla politica di intervenire sui nodi di sviluppo, non chiediamo scambi e guardiamo il Paese dal lato dell'offerta, facendo i conti con le potenzialità senza appiattirci con il presente. Per attrarre ricchezza nel Paese occorre mettere in condizioni di competitività le imprese italiane per vendere prodotti e servizi nel mondo ed attrarre ricchezza al proprio interno. Più competitività per le imprese, più presenza sui mercati esteri, più attrazione di ricchezza in Italia. L'alternativa è la paralisi del sistema industriale italiano. A noi è chiara. Il 12 e 13 aprile a Torino il biennale di piccola industria diventa il convegno di Confindustria, due giorni di mobilitazione dell'intero sistema imprenditoriale italiano, di denunce e di proposta. Sottolineeremo l'importanza di affrontare la specificità italiana e la specificità europea. L'economia è una questione di interesse nazionale e riguarda il futuro del Paese. Occorre uscire immediatamente da un senso perenne di campagna elettorale e affrontare immediatamente la questione crescita, ritornando a quello spirito del dopoguerra, passando dagli interessi alle esigenze del Paese. Richiariamo alle scelte il primato della politica, perché la nostra categoria e perché il Paese merita un Paese che ci faccia sognare e non che ci facciano entrare in un incubo senza precedenti.